32esima giornata del girone B di serie B al battaglia, quella che in fase di presentazione era stata definita la partita della storia, Bustese-Paresina. 32esima giornata del girone B di serie B al battaglia, della storia, Bustese-Paresina. Grazie a tutti. Fuori! Bustese e Varesina, nonostante le occasioni, chiudono il primo tempo. Buon appetito! 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 Buon appetito!